Essere venuto a Napoli per combinare ampari, credere di trovare molta miseria qua, invece aver petuto la gente allegramente a spendere come niente, denaro in quantità, oh yes! Qui ho visto solo molte trattorie con tanta vendita e roba da fare impazzire, oh yes! Io che fai terra molto mattina, giorno e sera, girando aver petuto come mangiare qua, vuoi mangiare mozzarella, non mangiare carusel, vuoi mangiare una bistecca, non mangiare picosecca, oh yes! Chi ha veramente guerra, l'Italia o l'Inghilterra, appena che tornare mio paese, quando mia moglie deve fare la spesa, mandare lei con aeroplano a fare la spesa a Porta Capuana, oh yes! Oh, che bella cosa, oh che panorama, aver girato Napoli, petere Mergeline, che figlio di Marina che stare in terra là, ma poi, che bella cosa, passando Pocavone, a me fatto bilone di prima quantità, oh yes! Aver dat vestita ravugliato, ma dentro aver trovato mappina in quantità, oh yes! Io che fai terra molto perché girato assai, io mai aver petuto quello che fai terra qua, vuoi puoi fare sempre festa, noi tenere faccia e peste, vuoi sparare ogni momento, io credere un bombardamento, oh yes! Chi aver vinto guerra, l'Italia o l'Inghilterra, appena che tornare mio paese, io raccontare che siete assai cortesi, cortesemente al bagno di Coroglio, si presere a giacchetti o portafoglie, oh yes! Oh! Che brava gente! Oh! Che figlio in crocchio! Quando sbarcaro a Napoli, tenero sull'archia, 38 malattie, ma aveva sottratto, invece qui, mangiate una sera quattro pizze, tre zuppatelli e cozze, e sono guarite già, oh yes! Io aver avuto papà Napoletano, mia madre Puzzulana, che mi sgravava là, oh yes! Io che fai terra molto, fai tutto per la strada, le donne assai ingrassate, ma cosa fate qua? Vuoi pensare a fare figlia? Noi allevare le coniglie? Vuoi fumare troppo assai? Noi non fumare mai, oh yes! Chi aver vinto guerra, l'Italia o l'Inghilterra? Mia moglie in Inghilterra non sgradare, là troppo freddo io sempre più a rognare, ma io mandare a prendere famiglia e fare qui una cartella e figlia, oh yes!